Buongiorno e benvenuti in via Savoia 40. Siamo a Sassari, un attigo splendido di un'ampissima metratura, ideale per chi cerca qualcosa di estremamente esclusivo e panoramico con tanti spazi esterni. Siamo su un quarto e un quinto piano alto e a disposizione due autolimesse. Buona visione, non perdete questa opportunità. Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!